Il meteo per giovedì 11 febbraio 2021. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse sui settori collinari e montani. Limite delle nevicate in calo dalla sera verso i fondovalle montani e 500 metri sui settori collinari. Temperature in lieve diminuzione. Mare mosso molto mosso dal tardo pomeriggio e sera.